Noi aspiriamo al sostegno dei cittadini, il consenso dei cittadini ci dà forza e noi ci mettiamo il coraggio, il cuore, il coraggio, la determinazione ma è chiaro che i cittadini ci hanno la forza per combattere le nostre battaglie e per portare dei risultati a casa. I risultati sono collegati agli obiettivi programmatici che stiamo indicando in questa campagna elettorale. Quindi attendiamo adesso le valutazioni dei cittadini ma siamo fiduciosi perché c'è tanto un rinnovato interesse e un rinnovato entusiasmo.